Questo video riguarda i migliori tre biciclette ellittiche. Il vincitore della qualità è il DYB Indoor Cyclette. Più pesante è il volano, più liscia è la guida. Progettati per velocità e stabilità, i volani generano maggiore slancio per un periodo di tempo più lungo, mantenendo i movimenti aggiornati. Indipendentemente dalla velocità o dal livello di resistenza, non ci saranno più gitter e movimenti di fuga. Piacevole esperienza di pedalata, l'impugnatura in spugna di gomma della cyclette offre una comoda esperienza di guida e prolunga il tempo di guida. I pedali a gabbia impediscono ai piedi di scivolare e offrono maggiore sostegno quando si calpestano. Le biciclette reclinate possono supportare fino a 220 libre. Suggerimento. Quando si è in piedi accanto alla moto, il sedile deve avere la stessa altezza dell'osso dell'anca. Questo permette al ginocchio di essere completamente esteso con ogni corsa del pedale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Profum bicicletta. Fornisce livelli di forza doppi rispetto ai prodotti ordinari, sensazione morbida grazie al volante da 16 libre e all'elevato rapporto di trasmissione, non è necessaria alcuna fonte elettrica. Il telaio principale Family è realizzato in un tubo in acciaio commerciale extra spesso da 8,2 x 5,3 cm. La base resistente contribuisce a una stabilità e una capacità di carico eccezionali. Abbiamo sviluppato il sistema magnetico di ultima tecnologia ed elimina il rumore, anche controllando il suono a 20 decibel anche dopo milioni di allenamenti. Nessun disagio al lavoro, leggere e dormire a casa. Il monitor digitale mostra tempo, velocità, distanza, calorie e polso. Tutti i dati sono doppiamente calibrati da algoritmi seri, che ti chiariranno l'effetto dell'allenamento per creare un programma di allenamento più accurato per raggiungere il tuo obiettivo di allenamento. Promettiamo di fornire un servizio a vita alla tua macchina ellittica. Pagheremo tutti i costi di sostituzione se i clienti hanno bisogno di sostituzioni. Il vincitore del premio è l'ISS Y6801. Si adotta l'acciaio inossidabile di alta qualità per garantire durabilità di IS e bicicletta da spinning. Dotata di pratiche ruote integrate e spinge in fretta, in modo da poter spostare e memorizzare nella vostra casa facilmente. Lo schermo LCD dell'ISS Y6801 non verticale non solo visualizza tempo, distanza, calorie bruciate, frequenza cardiaca, e grazie al sensore della frequenza cardiaca sul manubrio ma anche permettendo di controllare il vostro frequenza cardiaca. Con 8 livelli regolabili di resistenza magnetica e la massa inerziale 8 kg, è possibile eseguire un lavoro specifico nei muscoli degli arti inferiori. La portata massima, 120 kg regolando la posizione del sedile, ergonomico IS e bicicletta può essere adatto per persone con un'altezza di 145-190 cm. All'interno sono presenti dei magneti per il controllo della resistenza della cicletta IS, che ha reso molto silenzioso l'S Y6801 durante l'allenamento. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.